Musica Bentornati alla Clessidra, la trasmissione radio televisiva in onda su otto pagine e sulle frequenze di Radio Magic 2. Oggi ci occupiamo di una particolare forma di agricoltura, una produzione tradizionale ma che fino a non molto tempo fa era considerata illegale. E che si sta diffondendo in tutta la regione. Parliamo della canapa indiana più nota come marihuana. E' con noi Gerardo Molettieri, proprietario di una piantagione nella terra del buon vino a Montemarano. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Qualche mese fa la segretaria della CGL Susanna Camusso è stata in Irpinia. E dopo che per anni i sindacati hanno parlato della necessità di industrializzare le zone interne, ha invece concluso che bisogna tornare alla terra. Un cambiamento radicale. Lei l'ha presa alla lettera evidentemente, ma perché ha deciso di puntare sulla canapa indiana? Diciamo che questa mia passione è nata già quando ero ragazzo, perché ho avuto la fortuna di scovare così una pianta per caso, una pianta di canapa. All'era nemmeno avevo capito di cosa si trattava. Poi crescendo con il tempo ci ho ripensato su a questo fatto che mi era accaduto e ho cominciato a farmi delle domande. Come mai questa pianta che nasce spontaneamente potesse essere illegale? Poi con il tempo e con gli studi ho anche approfondito queste mie curiosità e sono andato a approfondire sempre di più. Fino a quando... No, non ti preoccupare. Scusami, ma una cosa vorrei capire. Che tipo di differenza c'è tra la canapa che tu produci e invece la marijuana di tipo ricreativo, diciamo, quella... La differenza maggiore è sicuramente nelle sue molecole, quello che contiene nella resina, ossia il THC, il tetraidrocannabinolo. E questa è la molecola, diciamo, responsabile dell'effetto psicotropo e quindi che oltrepassa la barriera ematoencefalica del nostro cervello. Cioè in una pianta tipo stupefacente? Sì, mentre queste che coltiviamo qui in Italia hanno un tenore di THC pari allo 0,02%, quindi è praticamente nullo. Quello stupefacente invece a quanto arriva? Eh, possono arrivare attualmente in 90 anche al 24%, quindi sono davvero davvero molto forti. Quindi c'è un abisso tra le due cose. Sì, 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 assolutamente. Torniamo indietro, tu sei rimasto affascinato da questa pianta di canapa indiana che hai trovato per caso, poi hai fatto degli studi. Sì. E cosa ti è... Diciamo che questa pianta può avere grandi risvolti economici perché può essere utilizzata sia nel campo industriale che nel campo chimico, nel campo farmaceutico e nel campo alimentare. Nel campo chimico può essere utilizzato ad esempio come additivo per migliorare il numero di ottani dei carburanti. O addirittura, grazie alla sua grande, diciamo, crescita, in soli 100 giorni abbiamo piante anche di 4,5-5, si crea una grande biomassa. E grazie a questa biomassa si può creare il bioetanolo, che è un carburante naturale, un biocarburante. Ad esempio in Brasile, già dagli anni 80, il 40% delle automobili vanno in giro praticamente con biocarburanti, anche se là utilizzano maggiormente canna da zucchero, barbabietola e soia per, diciamo, per creare questi biocarburanti. Un'altra, altre funzioni importanti, sempre a livello economico, è che si può creare della plastica. Nel 1923, Henry Ford, la prima macchina che è stata costruita in serie, la Ford T, era completamente in fibra di canapa. Cioè questa plastica derivava dalla fibra della canapa. Poi, prima della guerra, nel 1935, venne fatta una seconda macchina che venne chiamata proprio Amp Car, macchina d'erba praticamente, in cui tutti i materiali plastici che noi attualmente siamo abituati a vedere in una normale macchina, era fatto tutto con olio di semi di canapa. Quindi plastica che derivava dall'olio di semi di canapa. Come pure il carburante era in vietanolo. E come mai poi è sparita la canapa indiana? Io penso che è proprio perché sia una questione economica, visto che non tutti possono permettersi una trivelle, andare in oceano e trivellare petrolio. Lei è favorevole alla legalizzazione della canapa indiana a scopo ricreativo? Sì, sicuramente sì, perché questo potrebbe essere anche una bella bastonata a tutte le criminalità organizzate che lucrano tantissimo. Basta andare a Napoli, Napoli, la marijuana gira. Come pure è qua in Irpinia, penso. Quanto è grande la sua piantagione? La mia piantagione è di tre ettari e mezzo, anche se effettivi sono due ettari a canapa. Il resto ci sono degli olivi, viti. Com'è la vita dell'agricoltore? Ti alzi presto, hai degli orari particolari? Dipende dai periodi. Quando è il periodo che si lavora bisogna darci dentro, però poi nel resto dell'anno posso anche gestirmi gli orari e lavorare un po' quando mi va. Ma devono essere annaffiate ogni... Sì, anche se adesso poi magari con la commercializzazione di qualche prodotto dovrò lavorare un pochino di più anche nei periodi diversi dal raccolto, alla semina e tutti questi periodi qua. Hai studiato per sapere come produrre e in che modo la miglior canapa indiana possibile? Io studio scienze erboristiche, però naturalmente poi è anche una questione di ricerca e di conoscenza. Come magari per il tè vengono scelte le migliori foglie, vanno là a mano. Io cerco di scegliere i migliori fiori perché vengono utilizzati i fiori per la produzione della birra. Essendo molto aromatici vanno a dare un'aromaticità, giustamente un sapore molto particolare a questa birra. Poi parleremo della birra, ci arriviamo. Ma la canapa indiana, mi dicevi, è un prodotto naturale di queste terre. Sì, veniva coltivato soprattutto nella zona dell'aceno e le nostre zone, soprattutto qua a Lavellinese, c'era un centro di trasformazione delle fibre tessili, uno dei primi in Italia addirittura. In più bisogna sapere che l'Italia era uno dei maggiori produttori al mondo, secondo solo alla Russia per quantità, ma in qualità noi eravamo nettamente superiori anche perché il nostro clima è più favorevole di quello russo. Cosa hanno pensato i tuoi genitori quando hai comunicato la decisione di coltivare canapa indiana? All'inizio erano un pochino scettici, però poi vedendo che ci credo tanto e che ci sono tante cose che si possono fare, il problema è poi metterle in pratica, non è tanto semplice, visto che non ci sono nemmeno centri di trasformazione. Ad esempio chi ha le olive, ora come ora, se vuole l'olio, va in un frantoio, e quindi anche i piccoli coltivatori, i piccoli agricoltori possono avere la comodità a casa. Attualmente, visto che non sono mai stati sviluppati questi tipi di strutture, adesso stiamo molto indietro a confronto al resto d'Europa. In paese qualcuno ha fatto battute sulla tua scelta? No, fondamentalmente alla fine molte persone mi hanno appoggiato. Qual è la più grande piantagione di canapa indiana in Campania? In Campania, bene o male, siamo più o meno tutti sulle stesse cifre, anche se so che a Salerno c'è una coltivazione di 5 ettari e questa è quella che so che è più grande, poi non la posso dire con certezza. In quali altri paesi europei è diffuso questo tipo di coltivazione? Questa è la canapa. In Francia, la canapa, diciamo, senza il THC, con un THC molto molto basso, è la Francia. Tutto sta nascendo dalla Francia, infatti anche i semi che io semino praticamente vengono dalla Francia, sono tutti... E lì la risposta economica verso questo tipo di coltivazione è positiva? Cioè c'è una crescita, una richiesta? Sì, c'è una crescita, però naturalmente i problemi ci sono, perché come ti ho detto è la trasformazione il vero problema, e non essendoci un buon, diciamo, come dire... Distribuzione? Una buona lavorazione, diciamo, anche sul territorio, più vicino, cioè bisogna allungarsi troppo. Per la fibra bisogna arrivare o a Taranto oppure a Torino, addirittura. Qui in Campania non c'è nulla. Quindi si potrebbe creare un indotto proprio per la lavorazione? Sì, e quella è l'idea. L'idea sarebbe proprio di arrivare a delle lavorazioni per ogni provincia, come ad Avellino, a Caserta, a Benevento, così da creare anche lavoro, naturalmente. Quindi dovresti associarvi un po' a tutti i produttori che ci sono in provincia di Avellino? Quanti sono in provincia di Avellino? Non ne ho idea. Sai di produzione nel sannio? Non ne ho idea. Ne conosco 3-4, non di più. Tu mi parlavi della canapa a effetti terapeutici importanti. Per quale motivo l'industria farmaceutica invece non ha utilizzato la canapa? Diciamo perché a mio parere può essere praticamente coltivata da tutti e quindi alla portata di tutti. E questo è un primo problema. Poi un altro problema che prima veniva associato alla marijuana, diciamo, e non alla canapa come è strutturata adesso, è il fatto che ci fosse il THC. Il THC comunque è una molecola che, come abbiamo detto, va ad avere effetti psicotropi e quindi può disturbare l'attenzione sul lavoro e può dare tutti questi tipi di problemi. Ma attualmente ci sono delle ricerche in atto, anche di alcuni miei professori a Napoli, come la professoressa Francesca Borrelli e il professore Raffaele Capasso, insieme a uno scienziato israeliano che si chiama Rafael Machulon, che è colui che ha isolato per la prima volta la molecola del THC e ha scoperto i recettori cannabinoidi all'interno del nostro corpo. Praticamente questa ricerca cosa dice? Dice che le molecole di interesse farmacologico non è il THC, ma bensì tutte le altre molecole che noi ritroviamo anche nella canapa che coltiviamo qua in Italia, come ad esempio il CBD, il CBC, THCV, THCA. Ok, 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 basta con le sigle. Però mi chiedevo questo, i cannabinoidi sono stati criminalizzati in farmaceutica, però gli oppiace o no, perché vengono altamente utilizzati come antidolorifici. Per questo mi ponevo questa domanda. Non lo so dire. Non ti preoccupare, io vorrei spiegarmi anche un poco meglio. La canapa indiana è stata per anni criminalizzata, forse ingiustamente. Quello che mi insospettisce ora è questa beatificazione, cioè come una pianta che è panacea di tutti i mali. Tu veramente ritieni che abbia tutte queste qualità? Questi sono degli studi scientifici che lo affermano. Poi è naturale che tutto è l'utilizzo che ne viene fatto. Ogni cosa che viene utilizzata all'eccesso è dannosa. Ogni cosa che viene utilizzata con una certa saggezza, con un certo criterio, può essere comunque risolutiva verso alcuni danni. Perché comunque scientificamente è un analgesico, è un antinfiammatorio, è contro la proliferazione dei tumori, è un immunosoppressore. Questo comunque è un dato di fatto. Quindi tutte le malattie autoimmuni come la SLA, l'Alzheimer e il Parkinson, che sono malattie in cui il sistema immunitario aggredisce te stesso, con questo abbassamento del sistema immunitario la prospettiva di vita si allunga. Anche per i disturbi alimentari viene comunemente utilizzata. Sì, ad esempio contro l'anoressia perché stimola la fame e può essere utilizzato anche come vasodilatatore, quindi in varie patologie cardiache, anche con gli ischemici, cioè problemi ischemici. Viene utilizzata anche per i prodotti alimentari, giusto? Poi un altro scopo, cioè un altro utilizzo è proprio quello alimentare. A livello alimentare può essere utilizzato, grazie alla sua aromaticità, a fare birra, in questo caso, liquori e quindi tutti questi tipi di prodotti qua. Poi si può fare anche una farina, la farina di semi di cannava, che è una farina senza glutine e quindi anche in questo caso può essere utilizzata in nutraceutica per tutte le persone che soffrono di celiachia. Quindi ci sarà anche la pizza alla cannava indiana? Sì, già vengono anche sviluppate, sia a Napoli che sono anche qui in territorio irpino. Potrebbero anche acquistare il materiale primario da te. Anche perché no. E ora arriviamo alla tua produzione. Poi c'è anche l'olio, bisognerebbe parlare anche dell'olio di semi di cannava che è un ottimo antidepressivo, ricco di omega 3 e omega 6, quindi comunque sono tutte cose da sviluppare e portare avanti. Cioè può rappresentare una vera risorsa per l'economia di questo? Sì, anche perché ad esempio dove è stata legalizzata, come in California, effettivamente c'è stato un innalzamento dell'economia. Poi comunque basta pensare soltanto alla criminalità. E' tutto quello che, la botta che potrebbe dare alla criminalità. E' anche il livello di carceri. In molte carceri ci sono persone che vengono incriminate per la marijuana. Fino a quando è illegale purtroppo. Sì. Allora, tu produci birra, questa è poi la finalità della tua produzione di cala pendiano in questo momento. Sì. Che tipo di birra produci? E' una birra, diciamo, di origine inglese, si chiama Golden Ale. La produco a Fisciano, grazie a, con la collaborazione della Brewin di Fabri David & Co. Il Mastro Birraio si chiama Carmine Tonto. In più, lui è l'ingegnere che ha progettato l'impianto che noi utilizziamo. Infatti lui li rivende pure questi impianti. Quindi, un grazie anche a loro. Tra quanto tempo sarà commercializzato? Spero al più breve tempo possibile. Ancora qualche problema tecnico da risolvere. Però penso a giorni. Toglimi una curiosità. Se venisse fatto con la canapa indica e non con la sativa, che è quella che utilizzi tu, avrebbe questa birra effetti stupefacenti? Sì, sicuramente sì, molto più forti. Anche perché è una birra a 8 gradi, quindi già è abbastanza forte di suo. Vabbè, la sua produzione, a proposito di legalità o meno, è sottoposta a controlli da parte delle forze dell'Ordine. E quindi cosa fanno? Arrivano praticamente da Salerno. È la squadra nel nucleo antifrote di Salerno, che viene praticamente nella mia piantagione. e va a prendere alcuni campioni di fiori, di infiorescenze, perché poi è quella la parte imputata. E l'analizzano per vedere se è tutta a norma, se rientra nello 0,02%. Va bene. Grazie così. Ringraziamo Gerardo Molettieri per essere stato con noi. Ci ha raccontato questo suo nuovo modo di fare l'agricoltura. In bocca al lupo per la sua attività. Vive il lupo perché siamo i pini. Era tutto per questa edizione della Clessidra. Un saluto a chi ci ha seguito su 8 Channel e Radio Magic 2. Alla prossima settimana.